ok allora direi che possiamo riprendere e abbiamo visto nell'esempio precedente come aggiungere la funzionalità di delete che ovviamente è abbastanza semplice perché come dire non c'è bisogno di fare input a parte dell'utente se non un click abbiamo agganciato l'evento abbiamo modificato lo stato togliendo una cosa che la cosa più semplice però è chiaro che diciamo le operazioni più interessanti sono quelli dove andiamo a prendere informazione dall'utente che non siano se dei semplici click quindi testo altre e andiamo in qualche maniera a gestirla e questo si fa con i form informe sono un sistema inventato diciamo con l'html sin dalle prime versioni che consentono di inserire dei contenuti nella pagina e poi nella prima versione html di andare a mandare sul server che se di memorizzare se li processava noi in realtà li manteniamo locali e l'applicazione li andiamo a inserire nello stato e sarà la codice dell'applicazione che gira localmente nel browser a decidere quanto e cosa mandare al server in maniera asincrona come sempre quindi è assolutamente necessario che impariamo a capire a gestire i form questo argomento come dicevo prima nell'intervallo ci terrà occupati questa lezione e probabilmente parte della prossima perché in un'ora non riusciamo a esaurirlo sicuro i form in html sono abbastanza inconsistenti perché perché sono nati con l'html stesso le prime versioni html avevano già la possibilità di creare di forma con quella modalità che vi dicevo prima cioè parlavano direttamente col server poi e questo come dire ha creato un po di disordine nel senso che ci sono elementi dei form un po più uniformi quindi che si possono gestire in maniera abbastanza simile tra loro ma anche elementi un po particolari per esempio avete il radio button avete le text area dove potete scrivere molto test eccetera questi si comporta in maniera un po diverse se andiamo a vedere come funziona il dom cioè non ci trovate il valore in punto value non si sgatena l'evento on change quando cambiate il click sul radio button e così via tutte cose un po fastidiose perché noi piacerebbe che tutto funzionasse in maniera uniforme cioè siamo abituati a scrivere l'event handler per il click e l'event handler per il change che funzioni per tutti gli elementi del form per fortuna react con il g6 ci rende uniforme tutto quanto perché perché avendo questo strato di virtual dom lì può decidere di creare l'interfaccia che vuole e poi sarà l'implementazione in react che si occuperà di andare a parlare col dom vero e quindi di tenere in conto di queste peculiarità dei form nativi ok quindi noi vediamo quello che si vede a livello del g6 con react che per fortuna è abbastanza uniforme in particolare il value l'attributo value degli elementi dei foro contiene sempre il valore corrente del campo quindi su un campo di testo una text area se un se una selezione eccetera ok noi andremo sempre ragionare col value così non diventiamo matte diciamo così e default value va bene nel valore iniziale eccetera abbiamo per tutti gli elementi del form l'evento on change che funziona e funziona bene per tutti quanti notate bene che questo evento si verifica potenzialmente molto spesso in particolare per i campi di testo dove l'utente scrive ogni volta che aggiungo un carattere cancello un carattere viene scatenato l'evento on change ok perché sottolineiamo questo on change perché come vedremo tra poco sarà l'evento che ci consente di tenere allineato lo stato di react col contenuto del form che sarà la modalità con la quale gestiremo il form e averlo ben funzionante per qualsiasi tipo di controllo del form ci consente appunto di faticare meno a fare questa operazione abbiamo già visto gli event handler nel dom anche in nel jsx di react funzionano in maniera simile quindi non è che si sono reinventati tutto event.target ci viene messo a disposizione ed è l'elemento sul quale è stato originato il l'evento ok quindi non è il target cioè sarebbe il source come dicevamo l'altra volta poi a seconda del tipo di evento ci possono essere proprietà più specifiche va bene questo è l'evento così come definito da react ma in realtà quando avremo bisogno andremo a prendere informazioni ma noi fondamentalmente avremo bisogno di usare target perché molto spesso ci viene comodo per fare accesso all'elemento stop no best no prevente forte la cosa che ci viene più più comoda perché in alcuni eventi dobbiamo evitare che si scateni il comportamento predefinito del browser che potrebbe distruggere la nostra applicazione come si fa a distruggere la nostra applicazione si carica una nuova pagina noi non vogliamo che questo succeda nelle applicazioni web single page application quindi dobbiamo impedire questo comportamento questo si fa con prevent default in particolare sull'evento un submit dei form e che automaticamente vanno a caricare una nuova pagina e in particolare sui link quando clicchiamo un link che il comportamento di default e caricare una nuova pagina ok questi sono tutti i video eventi sintetici definiti da react che sono mappati quasi 1 a 1 sugli eventi del dom quelli in grassetto sono quelli di maggiore interesse per noi in particolare non click non change e poi va bene gli altri ma diciamo al bisogno andremo a vederli come facciamo a definire un event andale in realtà l'abbiamo già visto queste cose le abbiamo già in parte viste quando abbiamo parlato del dom e dell'html per definire i form credo qui la stessa cosa abbiamo fatto tra l'altro prima nel senso che possiamo definire anzi dobbiamo definire una funzione e poi fare in modo di questa funzione sia agganciata ad un particolare evento la funzione la possiamo definire come desideriamo in java scritto ossia come arrow function come function con la parola chiave function e così via l'importante che ci ricordiamo che la funzione va passata come riferimento non chiamata ok quindi se noi passiamo il nome di una funzione una variabile che contiene riferimento a una funzione va bene se passiamo il valore di ritorno a una funzione come succede se gli mettiamo le tonde per chiamarla non va più bene perché noi dobbiamo passare la funzione in riferimento alla funzione non quello il risultato di quella funzione è ovviamente non possiamo passare la stringa che corrisponde al nome alla funzione ma questo va abbastanza da sé ogni tanto possiamo avere la necessità di passare dei parametri alla funzione che viene eseguita al verificarsi di un certo evento come facciamo dobbiamo avere a disposizione i parametri questo va da sé però questi magari ce li abbiamo sono semplicemente nello scopo e quindi li possiamo utilizzare poi vi ricordate c'è la closure se anche escono di scopo non è un problema siccome diciamo una sintesi come la prima rendere basta non ci consente di passare i parametri che vogliamo noi però abbiamo sempre la possibilità di definire una funzione in line quindi tipicamente su sotto forma di arrow function perché è l'unica cosa che possiamo scrivere in quel momento nelle graffe in cui prendiamo i parametri che verrebbero passati alla callback e poi facciamo quello che vogliamo nel senso se vogliamo passarne altri se qui ci sarebbe l'evento possiamo mettere evento e passarlo all'handler oltre che i nostri parametri e così via qui trovate qui i modi di fare le cose di non fare le cose se non abbiamo parametri tanto vale mettere direttamente riferimento alla funzione verrà chiamato direttamente col parametro che diciamo arriva dall'handler l'unica cosa che dobbiamo fare attenzione non chiamare direttamente la funzione quindi queste scritture sono sbagliate ma queste dove abbiamo l'arrow function che quindi come valore dell'espressione abbiamo un riferimento a una funzione sono corrette ok come abbiamo fatto prima prima abbiamo fatto esattamente così abbiamo abbiamo messo tonde freccia ok perché perché avevamo bisogno di passare un parametro e quindi dovevamo come dire customizzare rendere adatto al nostro caso il comportamento di quando si verificava l'evento ok se noi lasciavamo props delete exam sarebbe stata chiamata non col codice ma con l'event ok perché è il default di quello che fa l'handler noi l'event non serviva ci serviva però dire quale codice dovevamo passare quindi dobbiamo chiaramente sempre adattarci al nostro caso specifico ok bene fate queste premesse cioè siamo in grado di gestire gli eventi nei form dovremmo gestire gli eventi perché l'utente che scrive quindi on change o l'utente che clicca on click dobbiamo capire come gestire lo stato abbiamo discusso di stato prima adesso dobbiamo capire dove metterlo nei form i form sono per loro natura state full cioè hanno uno stato e lo stato qual è è l'input che sta mettendo l'utente nel form ok che può valere per i campi di testo ma anche per gli altri tipi i campi in una lista di selezioni e così via ok react è pensato per gestire questo stato quindi se vogliamo fare le cose secondo la filosofia react è necessario che abbiamo uno stato che rappresenta il contenuto del controllo del form cioè se il campo di testo cosa c'è scritto nel campo di testo se la selezione cose selezionate così via e lo teniamo sempre allineato a quello che sta facendo l'utente ok quindi per questo vi sottolineavo l'evento prima on change tutte le volte che cambia qualcosa nel form noi dobbiamo essere notificati e aggiornare lo stato interno del componente react che gestisce il form ok perché così ce l'abbiamo poi pronto per essere diciamo lavorato a secondo del bisogno quando l'utente ha terminato fa il submit fa non so clicca su un bottone che dice ok salva aggiorna eccetera nel momento in cui abbiamo però la possibilità di avere l'informazione in due posti diversi che sarebbero il controllo del form e lo stato di react dobbiamo capire chi ha la precedenza dove sta la sorgente della verità cioè qual è il contenuto che è quello che rappresenta lo stato corrente cioè una casella di testo dove scrivo in un form html per forza uno stato perché il browser si ricorda quello che ho scritto no io batto i tasti e compare del contenuto quel contenuto nella memoria del browser da qualche parte in quell'elemento html ok ma se io me lo duplico con la on change ogni volta che cambia qualcosa me ne faccio una copia in uno stato di react alla fine finisco per avere due copie dello stesso contenuto una gestita dal browser dell'elemento html e una gestita da me nello stato di react ok quindi quando duplico l'informazione succedono sempre dei problemi perché se non faccio attenzione noi useremo questo approccio di diciamo duplicare l'informazione ma forzando il contenuto del controllo del form sempre ad essere uguale allo stato presente in react ok ovviamente perché tutto funzioni bisogna che quando l'utente cambia qualcosa noi aggiorniamo il nostro stato e questo stato venga riflesso nel contenuto del form ok perché altrimenti l'utente scrive e il form non si aggiorna ok e ovviamente non è bello io clicco e quello non cambia il contenuto non cambia la selezione e così via ok però io vorrei voglio lo farò così che lo stato del form sia tenuto nelle variabili di stato di react quindi comunque le variabili create con la use state e così via ok adesso vediamo come fare è possibile fare anche diversamente nel senso che di per sé ci sono i controlli del form html quindi i campi di testo le selezioni eccetera come vi dicevo prima hanno uno stato potrei andare a leggerlo quando serve ma non è come voglio lavorare perché perché come dire non si adatta bene alla filosofia del mondo react ok cioè io ho deciso di utilizzare questo frame questo frevo prevede di gestire i form in questa maniera quindi a meno di casi veramente particolari vorrò gestire i form in questa maniera tra l'altro mi dà anche un piccolo vantaggio nel senso che siccome sono sempre io da codice che decido che cosa avviene fuori cioè si visualizza nel form se non voglio che capiti qualcosa basta che lo codifichi nel codice questa cosa non capiterà indipendentemente da cosa fa l'utente se io decido che l'utente non può scrivere più di quattro caratteri in una casella ho solo da evitare che nel mio stato interno di react vengano fuori più di quattro caratteri con un if con qualsiasi cosa e l'utente non potrà mai scrivere più di quattro caratteri perché li scrive ma con non change me ne accorgo e io riaggiorno il contenuto del form facendo sparire ciò che non voglio ok quindi lavorare in questa maniera come deciso qui a sinistra e anche più flessibile che lasciare il controllo al browser e fare una diciamo una verifica del contenuto solamente dopo ok adesso ho fatto un esempio semplice voglio tot caratteri ma potrebbe essere una cosa diciamo 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 indipendente più più complicata nel senso voglio voglio che i primi due caratteri sono delle lettere secondo i due sono dei numeri se no non ti faccio andare avanti e così via ci sono sono logiche dell'applicazione che posso imporre a mio piacimento perché codice mio che scrivo in javascript che decide che cosa viene fuori nelle caselle negli elementi del form ok ogni tanto no non è possibile ma diciamo vabbè file selection diciamo siccome componente ridone non posso dicere cosa ci scrivo però diciamo a parte questo caso veramente particolare che però fondamentalmente non vedremo e non ci interessa fondamentalmente noi useremo sempre questo primo approccio che viene chiamato componente controllato controlle components ok quindi andiamo a vedere come implementarlo e adesso siamo bravi e sappiamo creare uno stato in realtà come si fa cost variabile set variabile use state valore iniziale ok ipotizziamo la cosa più semplice un campo di testo quindi un input type text in cui scrivete nome cognome cognome indirizzo insomma quelle che volete quindi è un testo nel momento in cui io ho un componente farà return input type text value e ci sarà un certo valore dentro se io voglio farlo diventare un componente in cui decido io che cosa c'è scritto dentro devo impostare io il value del campo del form quindi input type test value uguale x il mio stato però siccome voglio che cambi e voglio dare la possibilità all'utente di lavorarci sopra bisogna che io sia notificato quando cambia quindi aggancio all'on change una funzione che può essere una funzione più complicata scritta da me che poi va a modificare lo stato come per esempio questo change x diciamo nel caso più banale se voglio dare l'impressione che il campo di testo diciamo si modifica esattamente come vuole l'utente prenderò il nuovo contenuto l'imposto come nuovo stato nuovo stato passa come value sul form e viene visualizzato react far render e viene visualizzato il nuovo contenuto ok quindi questo è il meccanismo che noi utilizzeremo per gestire i form capisco che qualcuno di voi potrebbe dire ma perché dobbiamo fare tutto questo lavoro per per gestire un form e questa è la filosofia react ma abbiamo anche dato un esempio cioè fatto un esempio nel momento in cui abbiamo questa funzione possiamo decidere di fare quello che vogliamo sul contenuto se a noi non ci va che compaia qualcosa in quel campo di testo non lo facciamo comparire il tuo nome può contenere solo caratteri alfabetici degli spazi se tu batti asterisco virgolette così via tu le batti io lo tiro via nel change la giorno lo stato lo stato visualizza quello che c'è scritto nello stato e non compare tu puoi scrivere tutte le volte quanto vuoi i caratteri che io non voglio quelli non compaiono ok quindi questa è la flessibilità che ci dà questo meccanismo ok oltre al fatto che abbiamo tutto allineato diciamo col sistema react e quindi abbiamo lo stato che direttamente gestibile come una variabile nel nostro componente quindi quando cambia quello stato che potenzialmente potrebbe anche cambiare per qualche altro motivo verrà visualizzato il contenuto relativo a quello stato nell'interfaccia per esempio carichiamo qualcosa in maniera sincrona dal server il form viene popolato perché andiamo a caricare informazioni in questo stato è tutto automatico in questa maniera mentre se noi avessimo avuto degli elementi html quindi si compongono in forma che non sono gestiti in questa maniera non abbiamo uno stato da aggiornare dobbiamo andare per ogni componente a vedere se è cambiato il contenuto a darcelo aggiornare noi a mano ok che ovviamente una cosa diversa da da quello che vuol fare act quindi il meccanismo dei componenti controlle nei form è questo c'è sempre un'interazione con l'on change l'utente dice che cosa vorrebbe fare con la nostra funzione noi decidiamo cosa effettivamente fare che di solito è fai quello che è stato fatto no quindi si prende il valore event target value che funziona per qualsiasi forma perché siamo nel jsx di react quindi per qualsiasi elemento del form testo list selezione per stare eccetera e la impostiamo nello stato ok questo scatena error rendere aggiorna l'interfaccia l'utente non si accorge neanche che questa cosa sta succedendo perché perché in realtà react ridisegna solo ciò che ricrea solo ciò che di cui c'è bisogno e quindi se abbiamo modificato un pezzettino un campo di testo ricrea solo col campo di testo con il nuovo contenuto ok potremmo rendere maiuscole le cose mentre l'utente scrive minuscolo mi sta scrivendo il codice fiscale noi tu batti minuscole esce maiuscolo ok per farvi un altro esempio ok quindi questo è il meccanismo diciamo potreste potrete provare non mi metto a provarlo perché volevo cominciare ad abbozzare poi la soluzione c'è la soluzione l'aggiunta del forma nella lista degli esami però se voi prendete queste due due funzioncine le mettete in un altro creator act up e un'altra diciamo un'applicazione che vi tenete lì di prove in cui potete paccioccare liberamente senza diciamo avere già una cosa complicata come la nostra lista degli esami potete fare queste prove e quindi per fare il copy in coli questo codice vedere come funziona ma qui lo commentiamo solo quindi fondamentalmente function my form è un componente il mio componente form in cui io metto form label input input text quindi c'è un valore che è il name che è quello del dello stato on change handle change e l'handle change ok l'handle change fa quello che vedevamo prima set name event target value ok in realtà queste due andrebbero messe dentro qui il form ma non ci stava però se chiudevamo la graffa destra venerà scomodo va bene handle submit ecco ricordatevi quando avete un form sempre gestire l'evento on submit e fare prevent default altrimenti ci si ricarica la pagina arrivederci alla nostra applicazione ok quindi questa è una cosa che non vogliamo quindi sarà assolutamente da fare attenzione che non submit può verificarsi per vari motivi non è solo un bottone submit può darsi che battendo invio nel form da qualche parte io scateno submit quindi agganciatelo sempre impedite sempre che venga ricaricata l'applicazione ok va bene questo è la controller component che non sarà descritto nel senso che non vogliamo che si usino i form in questa maniera ma sarebbe diciamo il meccanismo per il quale non abbiamo lo stato e lo stato in realtà è tenuto come informazione dentro l'elemento del dom ok ma diciamo questo va un po contro il meccanismo che vorremmo utilizzare per il forma e quindi non vogliamo che usiate questo meccanismo né noi né react perché perché praticamente l'utente fa quello che vuole noi non agganciamo non change e fondamentalmente andiamo a vedere cosa è successo nel form e solamente quando quando ne abbiamo bisogno sul submit del form salva bottone submit che salva e quindi l'applicazione prende in carico le cose valida il contenuto poi fa quello che deve fare però notere non raccomandato e non lo descriviamo quindi da evitare prevent default questo ve l'ho detto ecco l'avere un evento on submit oltre che il prevent default è utile anche per far la validazione del contenuto poi volete che so che tutti i campi siano stati riempiti che non mi abbiano lasciato un campo vuoto chiaro che non posso fare il controllo di un unico in un unico campo se l'utente non ha toccato quel campo non è che viene fuori l'on change l'evento on change di quel campo però nel momento in cui faccio il submit del form quindi considero tutto ciò che c'è dentro quel form e lo prendo lo uso per fare qualcosa lo salvo quindi lo voglio prendere i dati e mandarli al server e così via nel nostro caso semplicemente aggiungerlo all'array come faremo dopo devo verificare fare tutte le verifiche formali dei dati che l'utente immesso quindi se un campo va compilato che ci sia scritto qualcosa se lo volevo lungo 10 che fosse lungo 10 certe cose magari sono già risolte dal fatto che il componente controllo ed quindi lo già gestite con l'on change ma certe altre cose di coerenza tra i vari campi del form posso farle solamente alla fine ok quindi l'andle dell'on submit e il posto adatto per fare questi controlli quindi la cosiddetta validazione tra l'altro esistono tante librerie che sono in grado di aiutarvi a fare questa validazione perché ogni tanto un po complicato soprattutto se i form sono grossi hanno specifiche un po particolari se c'è questo non metti quello altrimenti metti quell'altro e così via quindi può diventare complicato di per sé secondo me secondo la nostra esperienza riuscite tranquillamente a scrivere diciamo tutti tutta la validazione con codice javascript non è così complicato e non avremo chissà quali form con chissà quali capi però sappiate che nel momento in cui le cose si complicano esistono tante librerie che vi possono dare una mano diciamo certo è che i componenti di tipo controlled sono un pochino noiosi da scrivere nel senso che mettersi lì dover farsi l'evento gestirsi l'evento on change andare a fare il set del veglio e così via non è il massimo bisogna farsi uno stato per ogni elemento del forma e così via quindi anche in questo ci sono la librerie che vi possono dare una mano diciamo noi cominciamo a farlo in questa maniera poi piano piano se vi accorgete che vi trovate meglio con una libreria così via di per sé non abbiamo nulla incontrare il fatto che usiate una libreria ok però almeno le prime volte credo che valga la pena diciamo fare una prova senza senza le librerie attenzione che questo stato dei form è una cosa da mantenere separata dallo stato dell'applicazione perché è uno stato diciamo che ci aiuta solamente a gestire il controllo del form quindi campo di testo e così via ok quindi tipicamente di questo stato non fate il lifting come dicevamo prima non avete bisogno di portarlo a livello di app perché perché vi serve lì per gestire che cosa far vedere nel campo del form ok magari potete al massimo portare in un componente che contiene tutto il form perché così poi la validazione più semplice però non non ha senso portarlo a livello dell'applicazione ok quindi tutti i vari meccanismi più sofisticati per la gestione dello stato sicuramente non non hanno senso di essere applicati nel caso dei form per per lo stato del form ecco un'ultima cosa che però vale la pena di vedere gestire lo stato con degli array in parte l'abbiamo già visto perché prima abbiamo gestito lo stato con un array quando abbiamo cancellato ma cancellare la cosa più facile vi abbiamo messo qualche slide per aiutarvi a gestire lo stato nel momento in cui avete un array come valore dello stato quindi nella variabile ritornata dalla use data avete un riferimento un array quando dovete aggiungere cancellare sostituire un elemento e così via così vediamo qual è la maniera corretta di farlo e soprattutto come non fare i casi tipici sono appunto aggiunta aggiornamento rimozione rimozione l'abbiamo vista per quanto nostro sarà di fatto quello che abbiamo visto vediamo gli altri due tre casi ok quindi adesso in questo momento ci siamo sganciati un attimo dei form che vediamo tra un attimo nell'esempio prima di concludere il discorso concludiamo queste slide così l'abbiamo viste avete pasqua per rifletterci sono sicuro che a pasqua avrete a pasquetta avrete modo di rifletterci però insomma diciamo c'è tempo di pensare un attimo il laboratorio tra l'altro sarà non questo giovedì perché già vacanza ma il giovedì dopo però se qualcuno di voi ha voglia di cominciare a pacioccare a fare tra l'altro c'è sempre slack non scrive quasi mai nessuno scrivete su discussion che se rimaniamo in contatto non proprio pasquetta magari ma insomma diciamo negli altri giorni e se qualcuno ha dei dubbi e delle domande però provate per quanto vostro perché sapete che programma per programmare più che provare va bene la teoria ma poi bisogna provare quindi allora andiamo a vedere qualcosa aggiungere come facciamo ad aggiungere ricordate qui l'idea è sempre devo ritornare il riferimento a un nuovo array se no react non funziona ok questa è una cosa specifica di react per come funziona react perché per capire cosa è cambiato va a vedere i riferimenti quindi se devo aggiungere qualcosa in un array devo creare un nuovo array allora per aggiungere ci sono due modi che vi consigliamo se aggiungete alla fine potete usare la funzione punto con cat che non è la push mi raccomando con cat prende il vecchio array aggiunge il nuovo e ritorno nuovo array ok quindi non aggiunge al vecchio e ritorno al vecchio ritorno un nuovo per cui va bene nel nostro caso notate la sintassi che è sotto forma di call back function perché non voglio apertermi niente lo stato nuovo dipende dal vecchio ok quindi mi va bene e non 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 scrivo set list old list punto con cat new item che potrei anche scrivere ma non lo faccio perché devo fare una call back ok e quindi prendo il parametro old list e ritorno al list con cat new item ok oppure avete lo spread che può venire comodo per esempio per aggiungere all'inizio concat aggiunge alla fine non mi sembra che c'è un concat all'inizio e quindi questo è un modo per aggiungere all'inizio apriamo le quadre si crea un nuovo array nuovo riferimento ci mettete cosa vi serve all'inizio virgola spread vecchio vettore avete risolto questo problema ok bene quindi questi sono due casi interessanti pensateci nel laboratorio avrete non so se la prossima settimana cioè il prossimo quello dopo comunque un certo punto ci saranno i form ci sarà da aggiungere ed editare e quindi bisognerà bisognerà usare qualche meccanismo di questo tipo aggiornare che è la cosa un po più difficile se dobbiamo aggiornare un elemento la cosa migliore è passare tutto con la map quindi prendere l'array e passarlo tutto con la map la map esegue una callback per ogni elemento dell'array ci ritorna qualcosa che viene inserito in un nuovo array ok quindi non una for each la for each non ci dà il nuovo array è solo un modo diverso di fare un for ok la map ci ritorna un nuovo array poi se noi dentro la callback facciamo semplicemente su item return item rimane come prima se però ne abbiamo uno da modificare con una condizione possiamo ritornare qualcosa di diverso ok qui volevo aggiungere uno per dire no ho fatto un esempio potrebbe essere che vado a fare qualche altra operazione però insomma nella callback della map posso fare quello che voglio ricordate che il secondo parametro della map della callback della map è l'indice quindi se dovete fare qualcosa in una certa posizione avete anche l'indice quindi potete fare il testo l'indice ok quindi qui è l'indice dell'elemento da aggiornare se voi mettete che so i è uguale a 1 parto da 0 quando j è uguale a 1 allora fate la vostra modifica ok attenzione anche qui purtroppo diciamo ci sono tutte queste cose da considerare ma vedrete che poi alla fine vi torna tutto il meccanismo se avete un array non di elementi semplici come stringhe, numeri, boolean che si modificano immediatamente e non c'è problema del riferimento avete un array di oggetti come tra l'altro abbiamo noi se dovete modificare qualcosa dentro uno di questi oggetti dovete cambiare anche il riferimento all'oggetto perché il meccanismo di React che va a vedere cos'è cambiato nello stato è ricorsivo quindi vede che è cambiato il riferimento all'array ok mi scorro l'array nell'array ci sono dei riferimenti questi non sono cambiati va bene allora tutto a posto questo è cambiato ok entro in questo oggetto array e così via lì dentro ci sono i riferimenti uguali sì allora va bene non è cambiato niente se è cambiato ok sulla base di cosa è cambiato fa tutti i ragionamenti su cosa deve essere aggiornato ok quindi supponiamo di avere due oggetti in un array quindi un array con due oggetti entrambi con i campi id val per noi potrebbero essere codice corso nome corso o il film potrebbero essere id il titolo del film data di uscita non lo so dovete aggiornare qualcosa perché avete implementato la funzionalità edit no e volete aggiornare che so il titolo avete sbagliato a scrivere il titolo non potete scrivere con lo stesso meccanismo della map di prima item punto che so titolo uguale qualcosa perché il riferimento all'oggetto rimane lo stesso avete solo cambiato la il valore della proprietà dell'oggetto come facciamo creiamo un nuovo oggetto retur aperta grappa che crea il nuovo oggetto nuove proprietà che o prendono le vecchie va bene se sono uguali oppure diciamo impostano il nuovo valore ok quindi la scrittura di sopra è sbagliata la scrittura sotto è corretta se l'oggetto è complicato dalla prima lezione forse della seconda abbiamo imparato a copiare un oggetto cos'era oggetto assign aperta grappa assegniamo aperta e chiusa grappa quindi nuovo oggetto assegniamo tutte le proprietà del vecchio e poi aggiorniamo la nuova proprietà la proprietà che va aggiornata ok rimozione e questo l'abbiamo visto e nell'esempio di prima abbiamo fatto filter quindi filter che ritorna un nuovo array ok oppure va bene vi sbizzarrite con i giochini dello spread e fondamentalmente diciamo potete usare lo spread a sinistra e quindi eliminare un elemento o più elementi a seconda di cosa scrivete qui dalla lista e questa automaticamente un nuovo array no perché così funziona lo spread ok quindi però insomma diciamo che abbiamo abbiamo capito il meccanismo ultima slide poi ci concentriamo sull'esempio riassunto sullo stato e qui più o meno finiamo il discorso sullo stato diciamo i componenti che visualizzano del contenuto avranno il loro stato che mantiene il contenuto da visualizzare tabelle liste form e così via magari anche degli stati di servizio come vediamo tra poco aperto chiuso o nell'esempio che abbiamo visto stamattina la stringa visualizzata per intero solo un pezzo per comodità e così via no questo è uno stato di servizio open close english italian logato non logato e così via questo stato in generale non è interessante al di fuori del componente ok se a che fare solo con la visualizzazione se a che fare col contenuto dovete ragionare in termini di dove serve questo contenuto ok quindi se è semplicemente una questione di visualizzazione va bene lasciarla nel componente o in componente vicino è quello che lo incapsula se invece a che fare con diciamo i dati dell'applicazione finirà che lo dovete portare su quindi fare il cosiddetto lifting dello stato fino a un componente che racchiude tutti che potenzialmente può essere quello dell'applicazione ok come fate andare a modificare come abbiamo fatto prima passando le call back come properties ai componenti che scatenano l'azione della modifica quindi quelli che prendono gli handler il click e il submit del form e così via ok quindi l'importante ecco non fare pasticcio ogni tanto capita avere sempre una singola sorgente diciamo della verità dello stato c'è avere un unico stato se io due stati nell'applicazione uno locale uno in app che rappresenta la stessa cosa mi incarto al 99 per cento ok ed è anche difficile dove baggare perché voi pensate che sia cambiato perché avete fatto una set state non capite perché non viene fatto il refresh in realtà prende lo stato non aggiornato anziché lo stato aggiornato ma questo perché perché avete due posti dove tenete la stessa informazione non è come se aveste in memoria due liste di firma se prendete quella sbagliata per forza che non funziona più niente però che con i componenti con le props con gli state così via è facile diciamo far pasticcio per cui lo stato sta sempre solo in un posto ok se lo duplicate è garantito che succede un pasticcio perché poi si può provare a tenerlo allineato però non è sicuramente prima di tutto non serve a niente la vostra applicazione perché potete sempre passare un ender per andarlo a modificare quindi non serve a niente numero uno e in secondo prima o poi vi perdete qualche aggiornamento qualche caso particolare e regolarmente quello che all'esame uno testa e come dicevo prima col vostro collega neanche per cattiveria semplicemente perché prova l'applicazione e ci finisce sotto ok ok allora abbiamo visto il form vorremmo a questo punto provare andare per quanto potremo perché non abbiamo tantissimo tempo andare a modificare la nostra applicazione nella nostra solita applicazione del list degli esami che vi ricordo parte così col bottone di cancellazione che funziona quindi abbiamo lo stato dentro il componente che che racchiude la tabella ok e provare a mettere un form per raggiungere un nuovo esame ok no questo nuovo esame non andrà da nessuna parte se non nella memoria delle interprete javascript quindi come prima abbiamo tolto dallo stato un elemento dell'array andremo aggiungere un elemento in questo array nello stato ok poi quando avremo al server lo porteremo anche sul server però per ora non ce l'abbiamo e ce n'è già abbastanza così ok allora prima di tutto questo è l'albero dell'applicazione non dei componenti dell'applicazione numero uno mi devo sempre chiedere come organizzo l'applicazione dove metto il form no per cosa succede nell'applicazione quando devo mettere il form dove clicco con cosa faccio vi ricordate nel laboratorio avete quel bottoncino più che vi abbiamo fatto mettere da qualche parte adesso ci mettiamo anche noi un bottone di quel tipo una volta schiacciato però devo sempre decidere dove faccio comparire il forma a posso farlo comparire al posto della tabella posso farlo comparire sotto la tabella posso metterlo da un'altra parte insomma devo avere una vaga idea di come voglio organizzare l'applicazione questo è numero uno io per semplicità adesso lo metto qui è quindi anzi fatemi prendere il foro così non faccio troppi pasticci magari riusciamo a finire un po in tempo quindi delit delit voglio solo vedere come l'ho chiamato per non fare troppi pasticci lo chiamiamo exam form ecco molta fantasia ok quindi lo mettiamo qui sotto cosa di speciale questo componente e che sarà racchiuso in un'espressione in cui decidiamo se farlo visualizzare oppure no ok quindi non sempre visualizzato diciamo all'inizio noi lo scriviamo per visualizzarlo e poi però lo faremo sparire apparire secondo il bisogno con un bottoncino così intanto cominciamo a vedere uno stato diciamo così di servizio che serve a far apparire sparire delle cose un po come il delit però il delit agito sullo stato uno stato di servizio solo per la visualizzazione mantiene un'informazione tipo vero o falso visualizzato vero o falso e che ci basta diciamo per ottenere questo questo scopo ok quindi exam component andiamo alla fine quindi diciamo function cosa abbiamo messo exam form probabilmente non lo finiremo questo esercizio però poi mi metto il codice quindi return come cominciamo dalle cose semplici cioè vi potrei mettere online tutto ma cerchiamo di di costruirlo passo per passo per vedere il ragionamento ok return diciamo che qui ci mettiamo un potremmo per ora mettere un button button cancel quindi vi faccio un piccolo trucchetto nel senso altre al form e ci mettiamo un bottone per dire non voglio più fare la modifica ok perché adesso se mi metto a scrivere poi ci metto dieci minuti e non vediamo questo aspetto ok dobbiamo farlo comparire abbiamo detto lo facciamo comparire sotto la tabella lo facciamo comparire sotto la tabella dunque allora ci sarebbe da ragionare un po sul layout e così via diciamo cerchiamo un po di accorciare per non diventare perché abbiamo poco tempo no però dunque diciamo che lo mettiamo come un elemento in fondo alla tabella quindi table e qui ci mettiamo il nostro exam form ok non mi piace così metto così allora questo protesta perché sono due non sono non è più uno quindi ci metto il mio fragment ok quindi adesso cosa ho fatto semplicemente ho aggiunto un bottone cancel no quindi non c'è niente di particolare c'è nuovo componente con un bottone cancel ok va bene però io in realtà volevo il form ma in realtà io volevo un battone aggiungi no avevo fatto questo componente col form in cui c'è solo il bottone allora mettiamo anche il bottone no button add add no cos'è che ho detto add si va bene ok vediamo cosa è successo ok add cancel in realtà vabbè poi lo volevo a capo ma non fare tanto non stanno tutti e due insieme ok allora in questo momento ho aggiunto solo due componenti e niente di speciale uno l'ho fatto bustra per il button e l'altro l'ho fatto io e dentro ci ho messo un altro button ok la cosa che faccio adesso è voglio avere uno stato che mi dica mostri il bottone add o mostri il form no perché io apro l'applicazione all'inizio voglio mostrare il bottone add come la vostra applicazione il più che avete messo nell'angolino no una volta che premete il più il più sparisce oppure vabbè resta se sta nell'angolino non ci dà fastidio e compara il form ok quindi come facciamo a farlo a far diciamo ottenere questo risultato questi stati sono stati di visualizzazione sono semplicemente delle variabili di stato che noi decidiamo cosa contengono e che una volta che cambiano dicono a react guarda che è cambiato qualcosa vai a vedere cosa c'è nello stato e fa il render corrispondente ok niente di particolare lo stato lo faremo cambiare come con delle chiamate dell'endler o un click dei bottoni add e va a cambiare lo stato cancelle va a cambiare lo stato ok quindi user state ne possiamo fare quante ne vogliamo abbiamo detto prima cost come la campione show form ok show form e poi diamo sempre il nome coerente set show form quindi set maiuscola us state all'inizio e mostrato no no io questa variabile direi che la tengo boolean e quindi dico false ok perché ho due stati uno l'altro ne avessi 34 devo inventarmi una codifica dello stato quindi un numero una stringa no la stringa può essere insert date normal quello che volete no se ha 34 stati devo decidere io una codifica per questa variabile che mi dice che cosa fare ok quindi qui una variabile è un altro stato separato dal precedente perché in realtà gestiscono due cose diverse questo non è un male anzi è un bene se pensate come facevo funzionava con le classi avrei dovuto mettere tutto in un unico stato e diciamo gli ux ci semplificano parecchio in questo senso cosa ne faccio di quello stato devo usarlo se non lo uso l'applicazione è sempre uguale adesso forse non ho fatto salva comunque l'applicazione ecco non ho fatto salva va bene ma l'applicazione non cambia finché non lo uso come faccio a usarlo faccio il render del elemento g6 condizionato al valore dello stato quindi come si fa mettiamo tutto tra graffe perché mettiamo un'espressione javascript dunque cos'è show form l'ho chiamato show form se sì allora non devo mostrare l'add va bene allora facciamo così va così se non è show form batto altrimenti exam form ok quindi punto interrogativo se uno mostra una cosa se invece è l'altro mostra l'altra cosa andiamo a vedere già sparito il bottone ok quindi io parto col se show form falso e quindi mi viene mostrato il bottone ad se io schiaccio ecco non funziona cosa ho combinato giusto non funziona perché non ci sono niente se io schiaccio non ci sono niente succede niente lo stato è sempre quello allora andiamo a mettere gli end quindi button su add posso metterlo direttamente qui un click click ok e cosa metto metto il cambio dello stato no quindi posso mettere direttamente una col bec che vado a cambiare lo stato mi raccomando è non è set show form true questa era forse si non va scritta così abbiamo messo quelle slide apposta questa chiama immediatamente la funzione prendete il valore di ritorno di cui vanno ve ne fate niente e poi quella quella ender non funziona perché ha un valore non sa cosa farsi dobbiamo scriverla come funzione ha io ho mangiato una graffa quindi le 20 target non mi serve l'event quindi posso lasciare vuote le graffe e via set show form true ok quindi salviamo andiamo a vedere se stavolta funziona o stavolta ha funzionato è cambiato lo stato è diventato se show form true in questo momento non c'è il force solo il bottone cancel ok il bottone cancel che tra l'altro non funziona perché perché anche lì devo mettere il mio il mio cambio di stato solo che il bottone l'ho messo dentro exam form ok quindi e quindi quindi il meccanismo è sempre il solito passo come props una funzione che mi consenta di fare il cambio dello stato ok quindi diciamo io chiamo la props cancel ma giusto per per ricordarmi e potete dare il nome che volete cancel e gli passo una funzione che fa già tutto quello che deve fare set show form show form true ok solo che adesso non funziona ancora perché questa è solo una proprietà che io passo e exam form ok quindi possiamo andare pure a provare ovviamente non funziona devo in exam form andare a farla funzionare sul bottone quindi avere un on click e qui metto props non me lo completo da solo vabbè cancello ok vediamo solo che non ho combinato pasticci ma dovrebbe andare prof cancello infatti ok perché qui non ho bisogno della call back cioè della parentesi tonda freccia perché qui ho già passato come valore un riferimento a funzione è già una funzione props cancello ok andiamo a vedere se funziona ma devo forse ricaricare ho salvato ok sa che qui devo ricaricare cancel no non va cosa mi sono perso per la strada props cancel on click props cancel exam form set show form ecco era false ovviamente se faccio true e rimane bloccato su true ok adesso funziona no quindi un bottone fa il set della dello stato a true e l'altro falbo fa false ovviamente se no c'è ben poco da da gestire questo è un meccanismo che ritroverete molto spesso nelle vostre applicazioni è uno stato diciamo così di servizio per gestire la visualizzazione la visualizzazione condizionale se non aveste avuto niente da visualizzare potete mettere false ricordate che forse viene renderizzato come niente nel dom ok però noi qui abbiamo un'alternativa l'altra quindi va benissimo così andiamo a scrivere qualcosa nel nel form così cominciamo a intravedere qualcosa allora quindi abbiamo la possibilità di far comparire un form e quindi allora ecco qui dobbiamo decidere una cosa potete usare i componenti form di bootstrap che tutto sommato vi consiglio anche se c'è da scrivere un pochettino come testo come jsx oppure i componenti che hanno il mapping sul dom del jsx quindi scrive direttamente facciamolo va tanto per fare una prova input type uguale text cos'è la prima che mettevamo al corno nel codice ma è il facciamo diciamo il nome va poi fa niente quindi name uguale nome giusto per fare una prova type name può di per sé basta no sì per ora basta ok e sono due diciamo facciamo forma che è sempre bene includere tutto in un forma perché così poi abbiamo l'evento on submit e quindi potremmo scrivere on submit qualcosa adesso la lasciamo vuoto un attimo ma giusto per per provare e qui è la solita storia di react che vuole il fragment dai me lo sono mangiato cosa c'è non è vabbè è cattiva va bene togliamo non sapete che facciamo prima sennò dobbiamo scriverci render ok va bene non si può lasciare un attributo vuoto va bene ok ad è spuntato il pezzettino del form questo è normalissimo forma solo che questi sono i form diciamo nativi no non quelli nativi con l'interfaccia diversa quelli nativi fatti vedere con componenti dal jsx ok quindi quelli in cui scriviamo il nome del tag come scriviamo i div e tutto quanto possa scrivere form input eccetera ok questa è una possibilità va benissimo e mettiamo on change eccetera change e possiamo farlo e possiamo lavorare tranquillamente anche con i form diciamo così nativi ok anche nella versione controld perché la versione controld ce l'abbiamo nel momento in cui noi scriviamo qualcosa con la on change nella on change e lo mettiamo in uno stato ok indipendentemente dal fatto che forse è nativo sia quello con lo stile di bus troppo sia il componente di bus troppo ok ovviamente non vi consiglio di non metterci uno stile quindi adesso non mi ricordo più cosa bisognava mettere su input adesso non ce l'ho per fare bus troppo bisogna bisogna un attimo andare a cercare non è che anch'io tutto il manuale in testa bus trap input bisogna andare a vedere qual era il form control ecco class form control ok così l'abbiamo cercato insieme vedete anche voi cosa fare quando siete dispersi qui ricordatevi al class name se novi dal warning ufo adesso c'è non change facciamo un attimo così così sta bravo ok cosa cambia cambia lo stile no dese arrotondato e largo si è adattato allo spazio che ha e tutte queste cose no ho cambiato lo stile un po come il bottone di bus trap no se no mi viene fuori il bottone grigio classico ok per ora accontentiamoci un attimo così perché non abbiamo tanto tempo non riusciamo sicuramente a finire tutto il for però volevo farvi vedere una prima implementazione un pezzettino di un form che sia controlled ok quindi allora per farlo controllo da cosa facciamo allora ci serve uno stato per ogni elemento del nostro forma adesso ne abbiamo uno solo che l'input type text quindi noi andiamo a metterci uno stato guardavo di non fare cose troppo diverse diciamo nome quote vabbè nome vabbè facciamo così cost name set name ovviamente potete anche farli in italiano non è che state ecco cosa ci mettiamo come valore iniziale questo è quello che io voglio scrivere dentro l'input type text cosa c'è dentro un form di questo tipo all'inizio o niente è vuoto no quindi una stringa vuota prima ho fatto uno stato con un array poi ne ho fatto uno stato con un buon e adesso faccio uno stato con una stringa ok benissimo ok allora aggiustiamo la on change quindi l'abbiamo messo come se facciamolo direttamente qui così vediamo anche una cosa interessante one change quindi prendiamo event ricordatevi una tonda di troppo vero che c'è nel visual studio ogni tanto sui tempi land prende come parametro l'event come faccio a prendere il valore che c'è scritto correntemente nel form allora event target è l'input abbiamo detto che il valore presenti tutti gli input dei form è stato uniformato da react ed è in punto value ok se volete ne facciamo console log insomma usiamolo come abbiamo detto di fare set name event target value miracolo sì questa è già una call back e quindi potremmo anche togliere le graffe va bene insomma non fa niente questo ok va bene il set name lo abbiamo usato name per ora non non è usato quindi questo dobbiamo usarlo perché perché il value value name se no non è un foro controlled se no ci scrivo quello che mi pare l'unica cosa che faccio è tenere sincronizzato il lo stato di react ok ma non funziona al contrario perché lo stato di react finisca sempre nel valore mostrato sul foro devo mettere anche value uguale name giusto questo ho messo sì ok questo form adesso è controllo nel senso che ha una diciamo un mapping 1 1 tra lo stato interno del componente e quello che c'è scritto nel form ok andiamo a provarlo allora ripartiamo con l'applicazione tanto per ripartire ad questo c'è il mio il mio form posso scrivere normalmente cancellare normalmente fare tutto quello che voglio cosa c'è di speciale c'è di speciale che ho la stessa identica cosa dentro lo stato di react quindi se io vado ad aprirmi il componente corrispondente che adesso vado a cercare exam form ha uno stato qui che è a a a a adesso io cancello e si aggiorna adesso io metto spazio 4 4 4 e si aggiorna e così via ok il form è controllo io modifico da una parte si modifica lo stato lo stato viene messo nella visualizzazione ok ultima cosa proprio dunque cosa possiamo fare 7 ne facciamo una cosa facciamo facciamo tuo uppercase eh scusate devo mettiamo tuo uppercase e vediamo cosa succede ok giusto per fare una prova ok mi spero che ritorni una stringa si per forza che ritorna una stringa che sono immutabile vediamo un po' allora ripartiamo eh quindi add ho il mio form io sto scrivendo minuscolo eh ok non ho messo la maiuscola volete venire a controllare eh cosa succede? succede che sono io nel codice che decido che cosa viene visualizzato sul form ok ok questo è il la potenza diciamo così del form controlled se voglio limitare il numero di caratteri lo limito se se a un certo punto non voglio più farlo scrivere perché ha scritto una cosa che non fa bene e faccio sparire tutto faccio tutto quello che voglio perché cosa compare cosa compare nel form è determinato dallo stato perché io ho scritto value uguale name se io tolgo value uguale name faccio quello che mi pare nel form ok ma non è quello che voglio eh questo lo faccio solo per farvi capire bene il meccanismo add io qui di nuovo scrivo in minuscolo ok però lo stato è maiuscolo perché io l'operazione quando lo porto nello stato ho fatto la maiuscola ma se non lo riporta nel form il form resta uncontrolled ok se invece lo riporta come si deve fare eh control z eh torna come decido io ovviamente finchè non faccio ripartire l'applicazione deve scatenarsi almeno un evento per poter aggiornare la cosa ma adesso qui lo stato c'era già e quindi era già maiuscolo aveva portato maiuscolo prima doveva almeno scrivere un carattere per far diventare tutto maiuscolo ok quindi ovviamente abbiamo finito tempo ma abbiamo cominciato a vedere un form controlled ok io adesso vi faccio commit di questo e poi penso un attimo mi coordino anche con gli altri colleghi se sono arrivati a un punto diciamo che non hanno fatto tutto il form come spero immagino come pensavamo lo finiamo la prossima volta se no vi faccio il commit di tutto l'esempio e poi la prossima volta magari lo commentiamo solo se avete dubbi o domande volentieri vi rispondo se no buona Pasqua perché giovedì mi raccomando non c'è il laboratorio c'è la settimana dopo e appunto ci vediamo nel laboratorio in cui ci sarà da fare delle cose relativamente semplici in realtà aggiustare i componenti eccetera non credo ci sia ancora da gestire i form ok però c'è da gestire un minimo di stato ecco ok va bene grazie grazie